Il Riparti Pionta è un'iniziativa che nasce da un'idea del Centro Giovane Arezzo Fattori e grazie a tutte le associazioni che si sono date disponibili a partecipare al progetto tra cui Lega Ambiente, Lega Calcio Wisp, Associazione Ex Etnos, Quinta Essenza e spero di non aver dimenticato nessuno, comunque tutte le realtà sono riuscite a mettere in piedi una giornata dedicata proprio al Parco del Pionta nella convinzione che portare le persone attraverso delle attività di tipo ricreativo, culturale, musicale e insomma di questo tipo sia una delle migliori soluzioni per tornare a vivere questa bellissima area di una città Noi siamo qui oggi per fare questa camminata, per riportare le persone a conoscere questo pezzo meraviglioso della nostra città e mentre cammineremo ci renderemo conto se ci sono dei rifiuti da portare via oppure no Stiamo in questa giornata insieme alla Rezzo Factory proprio per questo, proprio per portare avanti quello in cui crediamo quindi plastic free, il fatto di tenere la città pulita, il fatto che dipende da noi e quindi di riportare la responsabilità ad ogni persona Quanto è importante recuperare questo spazio verde all'interno della città che è il Pionta? Noi siamo qui per questo, siamo qui insieme veramente a tantissime altre associazioni proprio per lavorare su questo e per rendere importante riportare l'energia in questa parte della città che non vuol dire portarla soltanto qui ma vuol dire riattivare dei processi di ecologia delle relazioni che serviranno per tutta la città